salve a tutti un saluto da francesco samani vi ringrazio per tutti i commenti centinaia di commenti che mi avete mandato molto utili alcuni molto belli sicuramente c'è sta cominciando anche ad esserci un'intervendenza positiva anche tra di voi che tra coloro che seguono questo questi video vi ricordo di condividere il video se vi piacerà se vi è piaciuto di mettere un like di iscrivervi al canale e attivare la campanella a breve inserirò anche un account gmail nel quale avrete la possibilità di scrivermi allora in anteprima ve lo dico però devo ancora farlo e quindi ancora non mi arriverà niente lo chiameremo francesco samani youtube chiocciola gmail.com quindi per tutti coloro che mi chiedono dove posso scriverti quelli che mi seguono in tutti i video hanno la possibilità di sapere di sapere la risposta eventualmente se qualcuno mi rifara questa domanda che mi è stata fatta veramente tante volte magari potete rispondere anche al posto mio vi ringrazio anzi cercate di rispondere anche al posto mio su tante domande che vengono fatte perché sono certo che molti di voi se sono in grado insomma di auto aiutarsi no alcuni sanno più relativamente a una questione altri di meno rispetto a un'altra questione se non do la chioccia la rimetto allora l'argomento di oggi è relativo alla legislazione e un modo forse interessante per introdurre la legislazione è quello che disciplina l'accesso all'insegnamento quindi quindi accesso all'insegnamento perché è proprio quello che state facendo voi cioè come si arriva ad insegnare ma soprattutto accesso all'insegnamento in maniera definitiva quindi per avere il ruolo ovviamente non partirò dal medioevo desidero partire dalla riforma gelmini che fece un decreto dell'università relativo al miur quindi decreto numero 249 10 09 10 settembre 2010 lo fece la gelmini ricordatevi quindi ecco chi lo fece queste domande possono uscire soprattutto a mio viso nei quiz e ha fatto una riforma che ha dato che ha cercato di disciplinare i requisiti le modalità della formazione iniziale degli insegnanti nella scuola tutti gli ordini della scuola quindi scuola dell'infanzia primaria secondaria di primo e secondo grado quindi diciamo disciplinare la riforma consiste nel disciplinare le modalità e la formazione per i docenti quindi si premetteva nel decreto che la formazione iniziale degli insegnanti fosse lo strumento precipo per qualificare e valorizzare la funzione docente quindi aveva questi corsi avevano una funzione di qualificare e valorizzare la figura ovviamente del docente attraverso acquisizione di competenze disciplinari che poi sono tutte le cose che le questioni che verranno chieste tutto sommato anche a voi nel concorso psicopedagogiche organizzativo relazionali che erano necessarie a far aggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente quindi di fatto erano anche delineate le competenze del docente e tra queste vi doveva essere la competenza linguistica di livello B2 inglese previste dal quadro comune europeo di riferimento che allora cioè quello allora adottato era del 1996 del Consiglio d'Europa le competenze ovviamente digitali le competenze didattiche per studenti BES quindi didattiche competenze didattiche anche in presenza di BES bisogni di qualifici studenti con bisogni di qualifici speciali e quindi l'obiettivo di questo decreto è stato quello essenzialmente di sostituire le vecchie si è passati dalle vecchie SIS si è passati dalle vecchie SIS a percorsi di laurea magistrali specifici combinati con un anno di tirocinio coprogettato da scuole e università questo tirocinio doveva essere di 600 ore a seconda dell'ordine migrato e essenzialmente quindi le SIS vennero sostituite di FA anche se per la scuola materna per la materna era sufficiente il corso il corso di laurea magistrale LM altanto ve lo scrivo così perché tante volte quando vi chiedono il vostro corso di laurea è proprio esplicitato come LM a ciclo unico di 5 anni e mediante tramite questo corso le facoltà di scienze della formazione autorizzate dal MIUR rilasciamo dei requisiti che davano il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e permetteva insomma di abilitarsi all'insegnamento mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado furono attivati i tirocini formativi attivi TFA percorsi formativi a numero chiuso formativi a numero chiuso quindi era previsto un concorso per entrare di questo TFA quello che forse adesso voi potete ricordare il TFA sostegno quinto ciclo perché il TFA materia c'è stato solo per il primo e secondo ciclo poi vabbè anticipo poi eventualmente ve lo anticipo adesso poi ne riparleremo in seguito ovviamente con il cambiare del governo spesso la scuola ha subito delle variazioni quindi non c'è stata una continuità e quindi poi quando il governo arrivò Renzi il tutto cambiò essenzialmente si pensò di fare il FIT il FIT che in tre anni era un percorso di tre anni nei quali poi nel secondo e terzo anno comunque si sarebbe gli insegnanti avrebbero percepito un rimborso spese ed era un percorso che prevedeva i famosissimi 24 crediti formativi universitari nelle varie discipline specifiche che poi davano l'accesso la possibilità di accesso a questo concorso che permetteva di entrare nel FIT di durata triennale e che dava poi la possibilità di entrare nel mondo della scuola ovviamente questi TFA avevano una frequenza obbligatoria essenzialmente dell'80% per quanto riguardava le lezioni e una frequenza obbligatoria del 100% per quanto riguardava le attività laboratoriali quindi vedete il 100% non era possibile assentarsi concluso questo percorso secondo il decreto del 26 marzo 2009 si diventava abilitati all'insegnamento essenzialmente questi TFA erano divisi in quattro sezioni insegnamenti relativi relativi alla classe di concorso un tirocinio diretto indiretto con fase osservativa dell'insegnamento passivo attivo quindi di 475 ore svolto presso le istituzioni scolastiche un insegnamento di didattiche disciplinari un laboratorio di didattico pedagogico nel 2012 vi ricorderete arrivo a Monti e ci fu il concorso profumo ho finito lo spazio me ne rimane poco quindi il concorso docenti uno dei più recenti perché poi l'altro è stato 2016 mi metto quello della buona scuola di Renzi 2012 mi metto Monti due premier chiamato anche concorso profumo quindi nel Francesco profumo ministro dell'istruzione del governo Monti indisse un nuovo concorso a cattere a distanza di circa un decennio dall'ultimo perché l'ultimo il precedente era stato bandito nel 1999 il primo aprile del 1999 quindi per tanti anni di fatto la scuola è stata un pochino chiusa dal punto di vista dei concorsi essenzialmente l'unico modo per diventare di ruolo era quello di essere nelle gradatorie prima si chiamavano gradatori permanenti poi venivano chiamate gradatori esaurimento questi gradatori esaurimento prevedevano un flusso di uno scorrimento cioè ogni anno venivano presi tot docenti che confluivano all'interno della scuola e diventavano di ruolo quindi c'era questa gradatoria che si sarebbe dovuta esaurire in molti meno anni di quanto non sia stato previsto e di fatto per oltre dieci anni concorsi a scuola non ce ne furono ci fu solo quello del 2012 Monti 2016 Renzi e ovviamente in teoria io dico in teoria perché poi quello che leggete nei libri non è sempre corrispondente alla realtà questi concorsi soprattutto per questo quello che sto dicendo non è propriamente vero poi vi spiego perché il concorso era riservato agli abilitati cioè a coloro che già avevano vinto il concorso o SIS o TFA avevano fatto i due anni di università di preparazione eccetera eccetera praticamente si rimaneva con una gamba dentro e una gamba fuori perché si diventava di fatto precari e poi si doveva cercare di vincere il concorso ma di fatto ci furono tantissime persone che fecero ricorso oppure si presentarono comunque al concorso persone con la sola laurea molti ricorsi si fecero proprio attraverso ANEF e persone con la sola laurea senza aver pagato TFA e un costo diciamo un costo medio di 3.000 euro e nel SIS 2.000 2.500 euro l'anno questo era il biennale quindi metteteci 5.000 euro questo 3.000 euro più ovviamente la difficoltà di vincere il concorso persone con la sola laurea in realtà nel concorso profumo vennero di ruolo con la riforma Renzi questa cosa fu attenuata c'è da dire che nel 2017 vinsero un ricorso tutto sommato questa cosa invece ci può stare le persone che avevano conseguito il dottorato di ricerca perché alla fine avevano altri 3 anni il dottorato di ricerca è il massimo titolo che si può avere all'interno della nazione italiana sono 3 anni quindi 718 180 crediti formativi universitari chi fece ricorso con ANIEF nel 2017 fece le prove subpetive e riuscì comunque vincendo il concorso ad entrare di ruolo nel 2018 tutti i precari che rimasero fuori circa 160 170.000 precari perché diciamo qui solo 20.000 divennero di ruolo 24 più o meno 20-24.000 nel 2018 ci fu invece un concorso non selettivo quindi entrarono tutti fecero entrare tutti sempre 2015 2016 ci fu l'assunzione di tutte le CAE risposta insomma a viaggiare cioè ci sono state diversi qua almeno ebbero il coraggio di non chiamarlo concorso nel 2018 invece fu chiamato concorso io assolutamente non ce l'ho con coloro che hanno fatto questo concorso hanno fatto benissimo a farlo io dico che fu chiamato un concorso quello che di fatto un concorso non era perché non era selettivo e piano piano quindi anche secondo le esigenze che ci impose l'Europa si passò ad un'attenzione maggiore rispetto ai riferimenti quadri europei le competenze chiave le competenze tecnologiche le TIC di questo ne parleremo nel prossimo video questo è un video diciamo di introduzione alla legislazione è interessante a mio avviso perché siamo arrivati nel 2020 forse a novembre dico forse perché sapete c'è anche il problema covid ci sarà il concorso straordinario per il ruolo io sinceramente non so quanto sarà certo perché anche qui io lo dico l'ho detto da subito se le scuole crederanno a causa insomma dell'ingente aumento di casi covid in Italia e soprattutto se insomma qualche docente si ammalerà di covid e non potrà partecipare al concorso questa sarà una situazione un pochettino particolare cioè perdere il concorso perché per andare a lavorare nella pubblica amministrazione ci si ammala e non si può partecipare diventare di ruolo sarebbe un'assurdità la lazzolina il nostro ministro di istruzione ha fatto tante cose anche buone riaprendo le gradatorie facendo tutti questi concorsi per cercare di assumere il personale però secondo me non deve spingersi troppo oltre perché rischia magari di rovinare tutto quello che di buono ha fatto non ha fatto solo cose buone però bisogna dirlo anche qualcosa di buono l'ha fatto considerando che prima di lei è stato fatto veramente ben poco almeno per coloro che speravano nei nuovi concorsi con questo vi ringrazio un saluto e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video